U pass, anticipazioni al 22 settembre, Ferri pronto a dimostrare che Tommy non è suo figlio. Un'anteprima della puntata Un posto al sole, che andrà in onda su Rai 3 dal 18 al 22 settembre alle 20.50. Dimostra che Roberto è riuscito finalmente a riconciliarsi con Marina. Ma dopo aver ricevuto il perdono dalla moglie, Ferri deve finalmente decidere il passo successivo, smascherare Lara Martinelli. Intanto quest'ultimo si rende conto di non avere alleati e escogita un piano per salvarsi anche questa volta. Potrebbero però esserci spazi per trame più leggere, come quella della forte attrazione di Micaela Cirillo per Costabile, mentre Guido del Bue si scontra con il marito di Bice. Trama di Un posto al sole, dal 18 al 22 settembre, Roberto Ferri si riconcilia con Marina Giordano nella puntata successiva di Un posto al sole. Roberto, Riccardo Polizzi Carbonelli, riesce a ritrovarsi con il perdono di Marina, Nina Soldano. In una recente puntata si è spiegato che la fragilità dell'imprenditore era dovuta al senso di colpa per la morte del figlio Tommaso Sartori. Tuttavia, Roberto potrà affrontare i fantasmi del suo passato che lo tormentano e dimostrerà la sua determinazione per andare a fondo di questa storia. Lara rifiuta di accettare la sconfitta e si prepara all'azione non è chiaro se Ferri combatterà da solo in questa battaglia o se Marina sarà al suo fianco. Sembra infatti che quest'ultimo intendesse partire per Londra. In attesa di conferme, è stato confermato che Roberto sta preparando il contropiede. Quest'uomo potrebbe effettivamente richiedere legalmente un test del DNA e mandare Lara contro un muro. Nel frattempo inizierà a pensare ad un piano per aggirare il problema. L'anteprima non rivela molto altro, ma è chiaro che Martinelli non ha intenzione di mollare. Non resta che capire quale piano avrà escogitato questa volta per sfuggire a gravi responsabilità. Settembre, Micaela si rende conto di essere attratta da Costabile. Un posto al sole, episodi 18-22. Nella prossima puntata di U-Pass, Micaela, Gina Amarante, si avvicinerà a Costabile Altieri, Antonio Fiore, al posto di Manuela. Ma a quanto pare, il fratello gemello Cirillo dai Riccioli Colorati noterà che lei non è del tutto indifferente al fascino del bel figlio di Espedito. Ci sarà uno spazio anche per Otero Testa, Lucio Alloca. In effetti, l'ex agente di polizia sembra essere così preoccupato per la sua bicicletta da ribattezzarla la sua bambina. Nel finale attenzione allo scontro tra Guido del Bue, Germano Belavia, e Massaro, Francesco Procopio. Questo dibattito, iniziato come un malinteso, finirà per prendere una piega molto preoccupante.